Una delle più grandi difficoltà che hanno i nuotatori in acqua è quella di riuscire a battere le gambe correttamente. Questo si vede in maniera evidente nella nuotata in completo, dove si denota una forte instabilità, forti problemi a livello di galleggiamento, si vede proprio che non sono a proprio agio in acqua. Tutto questo viene amplificato poi quando fanno esercizi specifici sulla gambata, dove magari possono fare gambe in maniera analitica o possono sfruttare la tavoletta. Ecco che lì tutte queste problematiche emergono ancora di più, perché si vede proprio la loro difficoltà anche nel completare soltanto una vasca. O magari devono essere costretti a implementare l'utilizzo delle pinne proprio perché non riescono a completarla o se lo riescono a fare ci mettono un tempo veramente spropositato. Probabilmente anche tu che stai guardando questo video ti ritrovi in queste problematiche, e non è una cosa normale, non è un qualcosa di ordinario. Quindi perché riuscire a battere bene le gambe e saperlo fare correttamente, magari anche con l'utilizzo della tavoletta, è così importante? Battere le gambe correttamente è importante per avere una nuotata coordinata, una nuotata fluida, con un basso dispendio energetico. E non saperle battere, anche con la tavoletta, ci evidenzia tutto quello che poi sono queste problematiche, perché chi non riesce a farlo con la tavoletta, logicamente poi, quando tramuta il tutto all'interno di una nuotata incompleta, andrà incontro a queste difficoltà. Avere un dispendio energetico veramente elevato, una nuotata serpeggiante, una tendenza ad avere le gambe che affondano. Motivo per cui, se noi vediamo una persona che con la tavoletta non riesce a battere le gambe, in nuotata completa abbiamo la certezza che non si trovi a suo agio, che avrà sicuramente una nuotata scoordinata e poco bilanciata. Infatti acquisire una corretta battuta di gambe è una skill importantissima ed imprescindibile, molto di più rispetto a quello di imparare a girare correttamente le braccia. Basti pensare che in qualsiasi corso nuoto, la prima cosa in assoluto che viene insegnata è la battuta di gambe. Ancora prima appunto dell'utilizzo e di saper sfruttare la bracciata. Ma allora, ciò che in questo momento ti starei domandando è ma perché allora io non riesco a battere correttamente le gambe, sia magari con oppure senza tavoletta? Il primo mito che voglio assolutamente sfatare è quello della conformazione fisica, proprio perché moltissimi trovano un po' questa scusa nel dire io ho le gambe grosse, ho la conformazione fisica molto muscolosa che non mi permette di avere una linea di galleggiamento buona e quindi non riesco a sfruttare le gambe in maniera corretta. O quantomeno non è una proporzione diretta. Anche perché ci sono tantissimi nuotatori che pur avendo delle gambe notevolmente muscolose riescono a rendere la loro battuta di gambe molto efficace, molto propulsiva, io compreso. Se c'è però una motivazione legata alla nostra conformazione fisica ecco che questa può essere assolutamente quella della mobilità della caviglia. Infatti avere una limitata escursione articolare proprio sulla caviglia e quindi avere in un certo senso il piede a martello non ci permette di trasferire l'energia propulsiva generata dal nostro corpo di gambe in forza di avanzamento. Proprio perché la spinta del piede non sarà ben indirizzata verso il dietro, che quindi poi ci permetterà di avanzare in maniera corretta piuttosto che il nostro preda andrà un po' a tagliare l'acqua rendendo completamente inefficace il nostro colpo. Però la colpa anche in questo caso non è solamente da imputare alla nostra mobilità della caviglia bensì al saper sfruttare correttamente un colpo di gambe che per l'appunto è un colpo di gambe che parte dal movimento dell'anca, dal movimento della nostra coscia per poi trasferirsi quasi come se fosse una frusta al nostro piede. Ecco che se in questo caso noi non siamo in grado di generare un colpo come quello che ti ho descritto in questo momento ci ritroveremo semplicemente a sgammentare, a scalciare mantenendo la nostra anca rigida e quindi logicamente il piede non potrà avere quell'efficienza generata da un colpo completo. In poche parole non saremo in grado di generare energia dalla nostra anca e poi trasferirla al piede che poi logicamente non riuscirà a prendere acqua. Ma quindi com'è possibile risolvere tutto questo? Di base devi imparare a battere le gambe correttamente per farlo e fare esercizi specifici affinché tu possa ricostruire da zero il tuo schema motorio della gambata. E tutto questo non si risolverà assolutamente facendo serie a sfinimento di gambe dove magari utilizzo anche la tavoletta piuttosto che le pinne. Quindi se ti ritrovi in questa situazione nelle condizioni che ti ho descritto prima il mio consiglio è quello di buttare via direttamente la tavoletta. Questo perché se da un lato la tavoletta permette di avere un galleggiamento maggiore dall'altro lato va a ridurre fortemente la tua escursione articolare a livello dell'anca. Oltretutto tutto questo verrà aggravato ulteriormente se poi utilizziamo la tavoletta con la testa fuori quindi ci aggrappiamo al bordo anteriore con le nostre mani e quindi teniamo la testa alta per respirare. Bisogna pertanto ripartire dalle basi ricostruendo tutto il movimento partendo anche semplicemente da degli scivolamenti ai quali puoi aggiungere l'azione propulsiva delle gambe sia in forma supina, in forma prona sia battendo le gambe lateralmente ma anche in verticale. Se vuoi imparare a battere le gambe correttamente di conseguenza rendere la tua notata più fluida più stabile, più bilanciata e di conseguenza anche più veloce il mio consiglio è quello di cliccare nel link in descrizione e parlare direttamente con uno dei nostri coach così da scoprire tutti i nostri programmi e servizi di miglioramento a distanza. Anche per oggi è tutto ti invito a lasciare un mi piace se questo video ti è stato d'aiuto ma soprattutto ti invito anche ad iscriverti al canale per non perderti altri contenuti come questi. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.